La diocesi chiamata a riflettere sulla chiesa sinodale venerdì 20 ottobre al villaggio del ragazzo il convegno diocesano che riprenderà l'esperienza dei tavoli di lavoro insieme a Don Severino Dianic. Autorità, responsabilità, autenticità, i tre pilastri sui quali basare la vita e l'impegno di un educatore, la testimonianza vissuta di Don Claudio Burgio, capellano del carcere minorile di Milano. Occuparsi degli altri, vivere con semplicità, testimoniare la carità, i propositi formulati dai fedeli liguri pellegrini ad Assisi per l'accensione della lampada che arde sulla tomba di San Francesco. Domenica amministratori locali chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio metropolitano, intanto Chiavari ribadisce la propria contrarietà alla realizzazione del depuratore nella zona del Lido. Inaugurati a Soglio di Orero i lavori di restauro dell'organo settecentesco e di un crocifisso del 1600 ritrovato in una soffitta festa grande in occasione della solennità patronale. Buongiorno ai telespedatori delle TG13, bentrovati nel nostro appuntamento con l'informazione. Una chiesa sinodale e questo il tema del convegno diocesano 2017. L'appuntamento è fissato per venerdì 20 ottobre al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno. L'appuntamento alle 18.45 per l'accoglienza della Pericena, alle 19.45 un momento di preghiera a cui seguirà l'introduzione tenuta dal Vescovo Monsignor Alberto Tanasini. I lavori saranno incentrati sull'esperienza dei tavoli tenuti in diocesi sulle conclusioni del convegno ecclesiale di Firenze. Il convegno diocesano sarà dunque l'occasione per la sintesi e la ripresa di quanto emerso e sarà guidato da Don Severino Dianici. E se è parlato anche di educazione giovanile lo ha fatto Don Claudio Burgio, capellano del carcere minorile Beccaria di Milano. Autorità, responsabilità e autenticità sono questi i tre elementi che un educatore deve vivere in prima persona per dare efficacia al suo impegno. Queste le sue parole, sentiamo. Perché non esistono ragazzi cattivi? Perché ogni persona è un bene originario. Il male è qualcosa che purtroppo attrae ma dentro un ambiente, dentro una cultura del male. Ma ognuno di noi, ogni ragazzo nasce nel bene. Dio creò l'uomo e vide che era cosa molto bella, più che buona anche. Quindi ognuno di noi originariamente è un bene a disposizione degli altri. Poi la cultura, le situazioni a volte ci portano a sbagliare. Però è anche importante ricordarsi di chi si è, cioè il fatto di essere un bene originario. Autorità, responsabilità, autenticità. Lei ha consegnato queste tre strade a chi si occupa di educazione. Da quale esperienza personale nascono? Nasce dal fatto che in 12 anni, non sono molti, però di carcere minorile a Milano al Beccaria non ho mai visto cambiare un ragazzo solo in forza delle regole, cioè solo attraverso la legge dei codici. Ciò significa che la legge, la legge umana, la coercizione, la forza impongono certamente un contenimento ma non necessariamente educano, cioè aiutano una libertà a cambiare, a rendersi più libera. Quindi credo che accanto alle regole, alle leggi, però ci voglia poi uno sguardo, uno sguardo che attrae al bene. E lo sguardo è tipico di quelle persone che testimoniano il bene con la loro vita. Di fronte alla fatica di un educatore, proprio nell'opera educativa, può emergere la tentazione di immollare tutto. Come riaccendere uno sguardo di speranza su di sé e sugli altri? Io guardo molto il Vangelo, guardo un po' le esperienze dei discepoli, anche loro hanno vissuto momenti di scoraggiamento, momenti in cui non capivano, rimanevano incompresi e non comprendevano. Ma l'invito di Gesù è quello, è sempre lo stesso, dura da duemila anni. Getta le reti, mettiti di fronte anche l'inedito, di fronte a questo mare che è ampio, a volte può essere anche pericoloso e anche insidioso, perché educare è rischio, sempre. Però getta le reti, fidati. La ripresa integrale dell'incontro di Don Claudio Burgio, che si è svolto nel Salone di Casa Marchesani a Chiaveri, verrà riproposta da Telepace il sabato, domani alle 21.10, su Telepace 1 al Canale 15. Child Dignity in Digital World, il primo congresso globale dedicato al tema della presenza di bambini e adolescenti in rete. Si è concluso oggi a Roma, dopo quattro giorni di lavori. Organizzato dal Center for Child Protection, presso la Pontificia Università Gregoriana, è stato il primo appuntamento multidisciplinare per un affronto sistematico del problema della lotta internazionale contro l'abuso sessuale di minori in ambiente digitale. Papa Francesco questa mattina ha ricevuto in udienza esperti accademici, dirigenti, leader civili e politici e rappresentanti religiosi provenienti da tutto il mondo, che hanno preso parte in questi giorni ai lavori. Una ragazza irlandese, Murienne O'Carroll, di 16 anni, ha letto al Santo Padre, rendendola così pubblica, la dichiarazione di Roma, un testo che è stato scritto e approvato ieri pomeriggio da circa 150 partecipanti. Nel suo intervento Papa Francesco ha ricordato i passi del Vangelo che parlano del rapporto di Gesù con i piccoli e le sue dure parole contro chi dà scandalo di fronte ai bambini. Quello che chiamiamo mondo digitale, ha detto, è frutto di uno straordinario impegno della scienza e della tecnica che ha trasformato la nostra vita e il nostro stesso modo di pensare e di essere. Se da un lato siamo affascinati dalle potenzialità di tutto questo, dall'altro la rapidità di questo sviluppo ci spaventa, anche perché spesso ci chiediamo se stiamo facendo abbastanza per tenere tutto questo sotto controllo e soprattutto per proteggere la crescita sana e la speranza dei più giovani. Oltre 800 milioni di minori navigano in rete, ha ricordato Francesco, e non possiamo nasconderci la realtà della pedopornografia, degli abusi sessuali, del bullismo che dilaga in rete, fenomeni che ci lasciano inorriditi e disorientati. Siamo chiamati a trovare vie e atteggiamenti concreti per dare risposte efficaci, con fiducia nella nostra capacità di orientare la rete verso un progresso umano integrale, evitando tre errori di prospettiva, ovvero la sottovalutazione del danno che l'impatto delle immagini violente può avere sui più piccoli, l'affidamento esclusivo a soluzioni tecniche e automatiche, costruite su algoritmi che non tengono in debita considerazione l'ampiezza delle esigenze morali ed etiche e la visione ideologica della rete come regno della libertà senza limiti. Occorre risvegliare la consapevolezza della gravità del problema, controllando lo sviluppo della tecnologia, individuando i colpevoli e aiutando le vittime, governando i processi di sviluppo con una grande sensibilità educativa, ha concluso Papa Francesco, invitando la comunità dei credenti a partecipare a questo processo. La Chiesa Cattolica in questi anni ha assunto sempre più chiara consapevolezza di non aver agito con sufficiente tempestività su casi di abusi ai danni di minori. E si è concluso il pellegrinaggio delle diocesi liguri ad Assisi. I fedeli hanno fatto rientro nelle loro case ieri in tarda serata. Un filo di tensione spirituale e desiderio di Dio ha unito le centinaia di fedeli che si sono ritrovati nella terra del poverello d'Assisi, San Francesco. Abbiamo raccolto immagini e riflessioni. Vediamo. Il dono dell'olio per la lampada che arde sulla tomba di San Francesco ha mosso centinaia di pellegrini dalle sette diocesi della Liguria. Un viaggio per celebrare il patrono d'Italia, riscoprire l'invito alla semplicità e all'umiltà, ma anche per fare spazio nel proprio cuore al silenzio e alla meditazione. Dopo la celebrazione del transito di San Francesco alla Porziuncola, mercoledì i fedeli hanno raggiunto Assisi per la messa presieduta dal Cardinal Bagnasco. L'arcivescovo di Genova ha invitato l'Italia a non avere mai timore di essere e di dirsi cristiana e indicando l'esempio del poverello d'Assisi ha invitato all'accoglienza, al dialogo e alla semplicità pensieri raccolti e ripresi dai pellegrini della Liguria. L'attualità è fortissima perché in questo tempo dobbiamo veramente avere gli occhi per vedere i fratelli che hanno bisogno. Avere meno noi e dare un po' di più agli altri, cosa che noi in questo momento non facciamo, anzi forse vorremmo prendere anche a chi non ha. Di considerarsi tutti i fratelli ma veramente nel cuore, non così, ma veramente nelle attenzioni. Questo però ci incoraggia a fare tutto con un certo senso di umiltà e di farlo gratuitamente. Nel pomeriggio, dopo i vespri presieduti dal Vescovo di Tortona, la processione e la benedizione dalla cupolina della Basilica Superiore, Monsignor Viola ha posto l'accento sulla bellezza della figura di Francesco. Una giornata dunque che ha scaldato il cuore di tutti, ha entusiasmato gli occhi colpiti dalla bellezza delle opere e dalla storia dei luoghi e ha ripulito la mente dalle scorie della vita quotidiana. Non ero mai stata ad Assisi, però veramente è qualcosa che colpisce, poi ancora di più le celebrazioni, i momenti che uno vive intensamente, c'è spiritualità da tutte le parti. Come poter ripartire dunque dopo il pellegrinaggio ad Assisi lo abbiamo chiesto ai frati del Sacro Convento. Ci sono tre piste molto concrete, quella di essere uomini di pace, quella di essere uomini accanto agli ultimi e uomini che amano e rispettano il creato. In questo caso il pellegrinaggio delle diocesi Liguri ad Assisi sarà dedicato uno speciale in programma lunedì sera alle 21.10 su Telepace 1. La politica amministrativa adesso domenica, gli amministratori locali dell'ex provincia di Genova sono chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio metropolitano della città di Genova. Si vota nella sala degli Arazzi di Palazzo Doria Spinola dalle 8 alle 20 domenica. Quattro le liste in elizza. In tutto saranno 815 votanti, persone che ricoprono la carica di sindaco o di consigliere comunale nei 67 comuni dell'Interland genovese. Lunedì poi ci sarà lo scrutinio delle schede. Sicuramente uno dei temi che il nuovo consiglio metropolitano si troverà ad affrontare sarà la richiesta del Comune di Chiavari di rivedere la decisione relativa al depuratore. L'area individuata dal lato, ovvero quella del Lido, è osteggiata dall'attuale amministrazione di Capua. Sentiamo. Che intenzioni ha il Comune in merito alla partita del depuratore nella zona del Lido a Chiavari? Noi siamo contrari al depuratore incolmata, soprattutto dove è stato previsto da Irene, che poi è esattamente dietro alle mie spalle sulla piscina, che per quanto ne so è anche vincolata e con il nuovo consiglio di Città metropolitana andremo a trattare esattamente questo tema, ovvero sia dove Chiavari possa in qualche modo accettare la realizzazione di un depuratore con le caratteristiche che si riterrà più opportune. Se troveremo degli accordi per un posizionamento condiviso andremo su quella strada, altrimenti ci opporremo nelle sedi opportune. C'è un'ipotesi alternativa da fornire in modo da agevolare comunque questa ritrattazione di decisione che comunque l'atto ha già preso? Prima di poter parlare di un posizionamento alternativo bisogna capire esattamente qual è la dimensione minima che noi possiamo ottenere, ovvero sia una dimensione che garantisca sicuramente le necessità di Chiavari e eventualmente di alcuni comuni limitrofi, ma non certo il bacino che è stato inizialmente previsto. Quando si riuscirà a trovare una soluzione su questa dimensione minima allora si potrà discutere di un posizionamento. Sino a quel punto direi che la nostra posizione è contraria e non ha possibilità di, cioè un depuratore così grosso non è che va bene qui o va bene lì, è un depuratore troppo grosso per Chiavari e quindi non va bene. C'è comunque l'apertura anche per gli altri comuni, Lavagna, Cogorno hanno bisogno di un impianto comprensoriale? Bisogna proprio capire questo passaggio con città metropolitane, con IREN. Quando capiremo questo potremmo fare un passo avanti in una scelta seria di un posizionamento. I temi di carattere diocesana adesso era stato ritrovato, smembrato in una soffitta, il crocifisso che la comunità parrocchiale di Soglio di Orero ha raccolto al termine dei lavori di restauro a cui è stato sottoposto. L'opera è stata presentata alla popolazione nella festa patronale di San Michele. In questa occasione un concerto d'organo ha inaugurato anche i lavori di restauro allo strumento. Vediamo. La parrocchia di Soglio di Orero, nell'imminenza della festa patronale di San Michele, ha avuto la gioia di inaugurare i lavori di restauro dell'organo realizzato nella seconda metà del 1700 e trasferito ad Orero dalla sua collocazione originaria e di un crocifisso che era stato ritrovato tagliato a pezzi in una soffitta. I lavori del crocifisso sono stati resi possibili dal laboratorio di restauro della regione. L'opera è stata ritrovata in un pessimo stato di conservazione. Il crocifisso l'abbiamo trovato smembrato a pezzi in una soffitta e quindi è stato ricomposto, pulito dai numerosi strati di ridipinture e di gessature che c'erano, ricomposto e ricostruiti i pezzi dallo scultore Garbarino e noi poi abbiamo ricucito tutti questi pezzi attraverso stuccature e naturalmente il restauro pittorico. Per quanto riguarda l'organo la spesa necessaria al restauro è stata coperta grazie al contributo dell'otto per mille della CEI e della compagnia di San Paolo. È stato più che altro un lavoro conservativo in quanto la cassa dell'organo era in ottime condizioni e soprattutto lo smontaggio dalla chiesa di San Siro e il trasferimento qui a Soglio è stato fatto sicuramente da un ottimo ebanista. In questo caso oltre al lavoro ben fatto abbiamo avuto la fortuna di trovarne senza linea di altissima qualità. Per la piccola comunità di Soglio di Orero quest'anno dunque la festa patronale di San Michele ha avuto un carattere del tutto speciale ma ogni anno questa ricorrenza è un'occasione di fede e di unità. Tantissima gente è salita qua a Soglio anche perché comunque la serata è bella e comunque vuol dire che l'iniziativa decisa dalla fabbriceria, da un marco e dai parocchiani è stata accolta bene dalle persone. Per il caldo demografico che c'è un po' in tutta la vallata e anche nella nostra Liguria sicuramente anche Soglio ne risente. Però quando appunto c'è l'occasione di ritrovarsi insieme per far festa ed è bello che la festa di Soglio è una festa parrocchiale della comunità. Ritornano a Soglio non soltanto le persone native ma ritornano anche le persone della valle che sentono cara questa festa di San Michele che ogni anno facciamo proprio il giorno liturgico, il 29 di settembre. Ecco la gente partecipa e sente questo momento come un momento comunitario di chiesa e di aggregazione. E in preparazione alla festa di Nostra Signora del Soccorso questa sera nella parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra Sestilevante liturgia della parola e meditazione di Don Andrea Buffoli. Domani pomeriggio alle 15 l'Oferta dei Fiori e Maria seguirà un momento di gioco. Domani alle 18 poi la Messa e le 21 il Vespro presieduto da Monsignor Lelio Roveta. Domenica poi la Messa Solenne delle 11 sarà presieduta dal Vescovo Monsignor Alberto Tanasini nel pomeriggio alle 16.30 e il Vespro presieduto da Don Luigi Olivieri cui seguirà la processione. Durante tutta la giornata sarà possibile accostarsi al Sacramento della Riconciliazione lunedì alle 21. Infine la Messa di Ringraziamento e la reposizione dell'immagine di Nostra Signora del Soccorso. E in occasione della festa della Madonna del Rosario alla Abbazia di Borzone a Borzonasca domenica pomeriggio alle 15.15 ci sarà la celebrazione della Messa. Seguirà un concerto ottenuto dal coro polifonico della Biblioteca di Segrate dal titolo Grazia Plena. Nel corso dell'appuntamento musicale saranno raccolte offerte per sostenere la prosecuzione dei lavori di restauro alla Abbazia. La linea adesso va alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti. Avvenire titola il Papa, ritroviamo la forza della vita, uomo e donna, alleanza generativa per la società. Francesco parla alla Pontificia Accademia per la Vita rilanciando un umanesimo delle relazioni e mette in guardia dall'utopia del neutro. Braccio di ferro finale tra Catalogna e Madrid, vietata la seduta del Parlamento di lunedì. Barcellona però non cede alla dichiarazione di indipendenza. Paura di tsunami, le banche ora vanno in Spagna, l'economia, anche l'economia della Catalogna sta temendo per il peggio. E sopra il deficit di competenze frena giovani e paese. Vediamo l'Ocse, pochi laureati, poco preparati e bistrattati. Il deficit di competenze vera zavorra dell'Italia. Per l'organizzazione il paese è intrappolato in un circolo vizioso che impedisce la formazione di nuovi talenti, positivo il giudizio sulle misure a sostegno del lavoro a partire da Jabhat, ma a preoccupare è la sottooccupazione degli under 35 anche perché non hanno formazione di esperienze adeguate, 13 milioni di adulti con basse abilità. Siamo sul secolo XIX, il piano PD per approvare lo Ius Soli, trattativa per far uscire gli alfagnani dall'aula, lavori usuranti, pensioni più facili, assunti bonus, giovani per solo i tre anni. E poi la Spagna, la Catalogna, il Parlamento si fermi. L'Italia pressa il Brasile, ora è stradate Cesare Battisti, ma il tentato viaggio in Bolivia forse era solo una finta, l'ex terrorista, se processato, non può comunque rientrare in Italia. Il Festival a Genova della Scienza, la scienza disegna il futuro, ricerca nuovi contatti in tutto l'universo. E poi notizie dal nostro territorio, il ritiro di AM Parkin, sorpresa parcheggi, l'appalto di Rapallo alla seconda arrivata, il progetto di Camogli, una via, un evento, saranno intitolati ad Umberto Eco e paura, Santa Margherita Ligure, assalto all'agriturismo, cani sbranano un cavallo e due asini. All'interno nel Levante, ATPAMT, il governo concede a più tempo, il sindaco metropolitano Bucci conferma ai cronisti del secolo XIX la rotta della grande fusione, 20 milioni pronti per il rilancio e una partita con l'85% delle possibilità di riuscita. Ancora nel Levante del secolo XIX, Piazza del Buono e Via Prandina in lista per le priorità di Chiavari. Stanziati 300 mila euro per l'erba dei campi situati in colmata, la giunta di Chiavari ha varato il piano delle opere pubbliche 2018-2020. Ora andiamo a vedere se ci sono aggiornamenti in redazione con Emanuela Castello. Grazie Andrea, buongiorno a tutti. Una persona straniera, un uomo di 34 anni, è stato denunciato dai carabinieri per porto di armi e oggetti atti ad offendere. L'uomo, fermato per un controllo a bordo della sua auto a Santa Margherita Ligure, è stato trovato in possesso di un coltello a Serramanico. A bordo dell'auto si trovava un altro giovane di 21 anni che a sua volta è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano. È tutto, linea allo studio. Lo sport adesso. Questa mattina il sindaco di Sesto Levante, Valentina Ghio, e il presidente del Panathlon Club Tigullio Chiavari, Michele Priolo, hanno firmato un protocollo di collaborazione tra il Comune e il Club in un'ottica di sviluppo e diffusione dei valori etici dello sport. Il protocollo persegue una serie di obiettivi, come la promozione dei valori positivi dello sport giovanile attraverso la preparazione di programmi congiunti per le scuole, le società e nel corso delle principali manifestazioni ludico-sportive, il supporto a Panathlon nella sua azione di certificazione e di proposta di nuova assegnazione o conferma delle patenti etiche alle società sportive. Al termine della cerimonia il presidente del club, che era accompagnato da quello del distretto Italia Federico Ghio, dal governatore dell'area 4 Germano Tabaroni e dal segretario Renzo Romiti, ha consegnato al sindaco il libro che ricorda i 50 anni del club e il guidoncino del Panathlon. Il sindaco Ghio ha manifestato il sincero apprezzamento per l'iniziativa che valorizza i principi etici dello sport e ha assicurato il supporto dell'amministrazione comunale affinché il messaggio panatletico sia diffuso sul territorio comunale. E con questa notizia si conclude questa edizione delle TG13, l'informazione torna questa sera a 19.15 con la prima edizione di Tguglio Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito internet e teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.